Anna Maria, emisfero donna. Diciamo che vogliamo trasmettere sempre il nostro messaggio, però nello stesso tempo e fare anche un messaggio augurale, particolarmente a tutte le donne. In questo periodo natalizio veniamo proprio a fare qui il messaggio nel territorio di Crotone perché è sempre un territorio con tanti problemi. Però è un territorio dove ci rendiamo conto che la cultura emerge a fatica. Però noi nel nostro piccolo diamo il nostro contributo. Questo spettacolo, così come lo vogliamo chiamare, di un'oretta, siamo riusciti a realizzarlo in dieci giorni e una settimana. Abbiamo fatto pochissime prove. Alla fine non ci siamo neanche resi conto come siamo riusciti a fare questo finale grazie alla bravura di Ilaria Paturzo, che è la nostra insegnante di canto. Quindi anche quest'anno c'è una sorpresa? Sì, la sorpresa è proprio questa. Innanzitutto il mio gruppo, anche se siamo piccoli come gruppo teatro, è ben assortito perché abbiamo la nostra docente d'arte che mentre facciamo questo spettacolo lei oltre a ballare, a recitare, a cantare dipinge, dipinge la violenza sulle donne e lo fa in scena. Abbiamo la nostra insegnante di canto, Ilaria Paturzo, e poi abbiamo Angela, che è la mia amica secolare. Oltre i 50 anni di amicizia. Diciamo che siamo l'una allo specchio dell'altra perché riusciamo a interagire bene tra noi e siamo una bella squadra. Una bella squadra che vuole fare gli auguri di Buon Natale alla nostra città, ma tutta la provincia. Qual è il messaggio augurale? Allora, innanzitutto il mio augurio è quello che ogni donna riesca ad emergere col suo essere donna. Questo Natale sotto l'albero deve trovare la sua forza, la sua grinta e la tenacia perché io penso che Crotone per rialzarsi ha bisogno di tante donne, scusate la presunzione, come noi e anche come te che sempre ci dai la possibilità di trasmettere questo messaggio. Oh happy day, 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 when Jesus washed, when Jesus washed. hoy – amaro – Cuando! Nu-mi chiii. apperamupro a… tutti e dai! Chi che. Chi. 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 Grazie a tutti